C'è il rischio negli ambulatori se la liposuzione è fatta in ambulatorio? Bisogna vedere che ambulatori, non penso se ci sono degli ambulatori come detto prima specializzati e ben attrezzati e con molta igiene penso di no. La farebbe lei la liposuzione in ambulatorio? No, di sicuro. Sono tutte cose che bisogna fare in posti adeguati. Si può fare la liposuzione in ambulatorio? Sentiamo il chirurgo plastico e ricostruttivo, il dottor Francesco Malatesta, un volto ormai noto per i nostri telespettatori. No, la liposuzione non va fatta assolutamente negli studi medici e in ambulatori non attrezzati ma va fatta sempre in clinica, in sala operatoria con la presenza di un anestesista. Diciamo sempre le stesse cose ma sono importanti da sottolineare perché la sicurezza è la prima cosa. Questo non vuol dire che non si possa fare una liposuzione magari di non entità importanti, cioè di piccole entità, andando poi a casa il giorno stesso. Possiamo anche eseguire intervento in poco tempo e quindi per piccole zone andare a casa anche dopo un'oretta. Però questo soltanto in certe particolari situazioni, ma mai in ambulatorio, sempre in strutture autorizzate.